Il caso appello di Fede, Emilio Fede fa un appello ai giudici, non ho più soldi per gli avvocati, mi rimetta la vostra clemenza dice, sapete che c'è il processo indagato per induzione alla prostituzione per il caso Rubi con Berlusconi, però poi tanto dice, tanto in galera non ci vado, ho 80 anni, se mi danno i domiciliari o una casa col giardino, faccio ginnastica e mi compro un cane, se fosse per me di battere in galera per 200 anni, 200 anni e butterei via la chiave e butterei via, paese di merda proprio, Jack, tanto pagano solo gli stronzi, pagano questo paese, meno male che adesso non c'è Nerone, sennò vi dava fuoco a tutti quanti, infami di merda!